76 casi su 7.556 tamponi processati, tasso di positività all'1%. Questo è dato emerso dal bollettino epidemiologico dell'11 ottobre. I casi emersi dal report precedente erano stati 62 su 12.099 test con positività allo 0,51%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia sale a 269.834, di cui 2.402 attualmente positivi, 260.629 guariti e 6.803 deceduti. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, 20 sono i casi attivi in più rispetto al 10 ottobre, 56 sono i nuovi guariti. Calano da 135 a 134 i pazienti ricoverati in area non critica, passano da 19 a 21 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 54 casi emersi nel Foggiano. 47.508 è il totale dei pazienti registrati in Capitanata da inizio pandemia. 7 sono i nuovi casi emersi sia nel Barese che nell'Eccese. 98.936 è il totale dell'area del capoluogo di regione, 31.357 è quello dell'area salentina. 3 sono i nuovi positivi emersi nel Brindisino, un dato che porta il totale a 21.390. Uno solo è il caso riscontrato nel Tarantino per un totale che ora è di 40.933. Nessun nuovo positivo infine nella BAT, zona nella quale il dato complessivo resta di 28.239. A chiudere il quadro, 4 casi dalla provenienza non nota. 3.812.402 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia. 4.812.402 è il totale dei pazienti registrati in Puglia da inizio pandemia. 4.812.402 è il totale dei pazienti registrati in Puglia da inizio pandemia.